Sì, Filippo, una vittoria cercata, voluta, tratti anche sofferta, però alla fine meritata per l'Empoli Sì, siamo molto felici oggi di aver ottenuto questa vittoria perché la stavamo cercando già da diverse partite L'atteggiamento è sempre stato giusto e oggi ci riprendiamo quello che in qualche partita precedente c'era stato tolto Oggi abbiamo avuto sicuramente anche un pizzico di fortuna, ma in questo sport serve perché qua a Bologna è un campo veramente difficile Abbiamo giocato contro una squadra forte, siamo riusciti a non prendere gol e a portare a casa la prima vittoria stagionale Che poi è quello l'obiettivo e siamo veramente molto contenti Prima di venire alle considerazioni personali, perché poi questa partita l'hai decisa tu, questo successo valorizza anche i pareggi che l'Empoli ha fatto in precedenza? Sì, sì, ma questa è una categoria veramente difficile, quindi ogni punto guadagnato è comunque una soddisfazione Perché non c'è partita facile, ogni partita va affrontata con grande determinazione, grande voglia sotto l'aspetto fisico, tattico È una concentrazione importante perché, come ho sempre detto, è una categoria che se sbagli qualcosa vieni punito Quindi io penso che queste prime sette partite, se non sbaglio, l'atteggiamento è sempre stato giusto La squadra è molto unita, oggi chi è entrato è entrato veramente bene Ci ha dato freschezza, ha dato profondità E infatti il gol è arrivato anche grazie a un inserimento di Liam che ha fatto un bel lavoro E poi io sono stato bravo e fortunato a trovarmi nel momento giusto, cioè al posto giusto nel momento giusto A proposito di gol, oltre all'importanza della rete di oggi, sono due nelle ultime due gare per te Questa capacità di accompagnare l'azione, di farti trovare in area di rigore poi alla fine paga? Sì, sì, è un aspetto che lavoro tanto Il mister è un aspetto tattico che a noi mezzali chiede, quello di inserirsi, di riempire l'aria Quindi è una cosa che il mister chiede, che io ho lavorato da sempre, insomma da quando lui è arrivato E quindi sono molto contento che poi questa cosa che chiede ha dato i suoi frutti E sono riuscito a segnare due gol e sono molto contento oggi Sì, che poi la rete è arrivata in un momento in cui il Bologna stava spingendo Poi per te anche un'esultanza liberatoria, diciamo, sotto il settore riservato ai nostri tifosi Sì, sì, è stata una bellissima emozione Oggi sono venuti tantissimi da Empoli E ho fatto gol proprio sotto lo spicchio dei tifosi E quindi è stato molto bello poter festeggiare con loro questo gol È stata un'esultanza anche liberatoria Perché tutta la settimana, insomma, venivamo da una partita con la Roma Che avevamo fatto benissimo, ma avevamo l'amaro in bocca di non aver portato punti a casa E quindi oggi ci tenevamo prima della sosta a fare una partita importante Sotto l'aspetto, insomma, del gioco, della qualità Però anche un po', diciamo, sporca Per cercare di portare poi i punti a casa che alla fine sono quelli che contano Ultima cosa per chiudere, perché adesso c'è la pausa La sosta per le nazionali, poi si riprenderà in casa con il Milan Credi che è un Empoli che deve ripartire dalle sue certezze, dalle prestazioni, dal gioco Dal proporre sempre Come poi è successo in queste prime sette gare? Ah sì, assolutamente Noi lavoriamo tanto Il mister ha delle idee molto propositive Sicuramente la nostra mentalità, il nostro modo di giocare È quello di ricercare la palla a terra con giocate veloci A volte siamo più belli come magari con la Roma Dove secondo me abbiamo fatto una partita sotto l'aspetto qualitativo veramente importante Oggi i primi 30 minuti del primo tempo siamo stati belli E poi il campo era pesante Il Bologna il secondo tempo ci ha messo in difficoltà Però con equilibrio abbiamo sofferto tutti insieme Abbiamo trovato un episodio a nostro favore E poi non c'è niente di male Con un pizzico di fortuna siamo riusciti anche a portarla a casa